Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa per bambini e ragazzi a partire da nove anni di età. Una riflessione sulla potenza delle parole e dell'alfabetizzazione. Incoraggia i giovani a esplorare il valore della conoscenza e dell'apprendimento. La trama del libro Rimm e le parole liberate, della scrittrice Maddalena Vagliotanet e illustrato da Ilaria Mancini, pubblicato dalla casa editrice Rizzoli, è la seguente. Provate a immaginare un mondo in cui le parole non appartengono a tutti, ma sono strane creaturine che vivono in gabbia e si comprano al mercato. Un mondo in cui soltanto i ricchi possono permettersi il lusso di usare termini strani e complicati, nessuno sa leggere e scrivere, la scuola non esiste e nemmeno i libri. Un mondo in cui molte cose non le potete dire, semplicemente perché non avete le parole per farlo. Questo è il mondo di Rimm, una ragazzina curiosa che, come gli altri abitanti del suo villaggio, neanche sospetta che le cose possano andare diversamente. Tutto però cambia quando si imbatte in un bizzarro vecchietto vestito di stracci e senza denti. Si chiama Witzel de sta per trascinarla in un'avventura incredibile. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.